Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo finalmente ritornati su Call of Duty Finalmente ragazzi, un grande ritorno di COD Oggi ragazzi cosa andremo a fare in questo video? Andremo a provare tre classi che ho scelto io personalmente Sono tre classi che utilizzano i competitor, cioè i pro gamer di COD che giocano nel competitive ufficiale di Call of Duty Queste tre classi qua ragazzi le ho trovate nel video di Rampage in the Box Che il suo video sarà sotto in descrizione, andateci a guardare se volete sapere qualcosa più nel dettaglio Queste ragazzi sono le mie tre classi che ho scelto Ci sono molti più classi che riguardano più modalità, più stili di gioco E io ho scelto queste tre classi qua perché ritengo che siano adatti al mio stile di gioco Veloce, preciso e via andare Ragazzi questa è la mia prima classe PPSH41 con la divisione avio trasportata L'ho accessorata con estrazione rapida e impugnatura Poi la secondaria è la pistola metteriatrice Granata MK2 che potete scegliere anche con quell'adesiva Tutte le altre secondo me sono completamente inutili da utilizzare nei competitive Poi ragazzi come addestramento base ho scelto discreto perché c'è il movimento più silenzioso E ti muovi più in fretta quando ti acovacci dunque è molto molto bella come cosa Qua ragazzi se avete altri accessori vi consiglio utilizzare anche senza mirino a lente Che comunque può sembrare anche inutile sinceramente Io adesso l'ho messa così per potenziare ancora un po' di più Io metterei estrazione rapida, mira più veloce oppure impugnatura Però metterei anche i caricatori aumentati perché ragazzi ha solamente 20 colpi e sono veramente pochi Dunque vi consiglio di mettere i caricatori aumentati Poi ho messo vabbè naturalmente pistola metteriatrice, granata MK2 però sciacallo Perché essendo senza caricatore aumentato ragazzi c'è solo 20 colpi E quando sei tipo in feed e sei vicino al V2 Ragazzi meglio non rischiare e metterci sciacallo sinceramente Poi c'è la classe con lo sniper che è il CAR 98 con la divisione aviotrasportata Caricatore aumentato e calibrazione ballistica Vabbè la pistola metteriatrice, la MK2 e discreto anche qua per muoversi più silenziosamente Queste ragazzi sono le mie 3 classi che utilizzeremo oggi in questo video Le andremo a provare in una partita pubblica E mi raccomando ragazzi vi invito a lasciare un bel pollicione in su, un bel commento Fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri video di Call of Duty E cerchiamo di superare anche i 5 like per avere un prossimo video di COD al più presto possibile Ok ragazzi la partita sta per ricominciare mancano 5 secondi Sto per utilizzare subito l'eleganza 2 cioè il bar Perché voglio tenermi il PPSH41 e lo sniper per dopo Siamo su dominio, Aken E ragazzi ci sono i doppi punti attivi per la divisione Dunque speriamo che non laghi perché si sa che quando COD ha i doppi punti Lagga veramente tutto il mondo Dunque speriamo bene Ok forse Ok grande, bella questa Però secondo me preferisco il bar senza il mirino ottico Questo qua forse era meglio normale Però adesso ragazzi lo proveremo insieme Lo proveremo insieme Ok conquistiamo perché bisogna anche vincere la partita Terza kill di fila ragazzi Dai, vai, no ho finito i colpi Visto ragazzi? Cosa intendevo? No cavolo ho finito i colpi della pistolina schifosa Ha veramente troppi pochi colpi ragazzi 20 colpi sono veramente pochi Per giocare Però ragazzi è fortissima, è fortissima Bisogna gestirsi bene come un vantaggio Bisogna gestirsi bene i colpi Adesso qua ha fatto una mega cagata io Non ci stavo capendo più niente ragazzi Ero entrato nel panico più totale Ragazzi poi comunque questa arma qua è veramente stupenda Con l'eleganza, guardate il rilievo Veramente è troppo bello ragazzi Come Come arma Eh no ero in due Ero in due non sapevo Ho sbagliato Scusatemi, scusatemi Mi devo allenare Mi devo allenare tantissimo Perché da un bel po' che non ci sto giocando No, scappa Perché sono abituato Vai Oddio Ero abituato ragazzi A giocare A Rainbow E poi dopo subito giocare a COD Ragazzi potete capire che È Abbastanza complessa come cosa Però ragazzi COD Ha il suo fascino Veramente Quando uno nasce su COD Quando uno nasce su COD Ragazzi non lascia mai COD È inutile COD è veramente troppo bello Cioè a me piace Un botto Eh va bene Dai ragazzi Dai 10-5 Però devo Abituarmi a non vedere il risultato Quando uno gioca su COD Deve morire su COD Ragazzi Perché è inutile Questo COD qua Mi piace troppo È veramente troppo bello Va bene Basta Va bene Ok facciamo Oltre 2-3 kill Ragazzi poi dopo ci buttiamo Tutto sul PPSH Li hanno conquistato Li notacci due Da dietro Iscrittemi sotto nei commenti Che arma Vi piace usare su COD Se quelle ste classi qua Li userete in un futuro State giocando ancora a COD Ragazzi State ancora giocando Se queste classi qua Vi danno Vai 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 Drop shottino c'è Il drop shottino c'è ragazzi L'abitudine non è scomparsa Cosa sta facendo Va bene Ok È un nemico Niente ragazzi State ancora giocando a COD Vi piace ancora Se queste classi qua Vi stanno aiutando Se vi aiuteranno in futuro Scrivetevi sotto nei commenti Perché io sarei Molto felice Se Vi state Provando Se vi sono stati utili A costruire la vostra classe Perfetta Su COD Ehi tu Grande Bella Primo round Ci mettiamo Il cecchino Vai il drop shottino Il drop shottino Non va Comunque ragazzi Tranquilli Potete anche No no Sono morto Potete utilizzare Tranquillamente Anche l'STG Perché tanto Non cambia Dipende dal vostro stile Se volete Uno scontro più ravvicinato Più veloce Del solito E così via ragazzi Questo lo stile Praticamente Il bar è più forte da lontano Ma anche da vicino Fa il suo sporco lavoro L'STG Un po' più veloce Un po' più capiente Di munizioni Dunque ragazzi Lì sta a decidere a voi Io mi sono trovato molto meglio Con Il bar Rispetto con l'STG L'ho provato tutti e due Anche contemporaneamente Ragazzi Il bar è tutta un'altra cosa No 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 Scappa Forest Oh mio dio Mi ha salvato la vita Te la salverò amico Ti ho vendicato Ti ho vendicato amico Mi dispiace L'unica pecca Secondo me ragazzi Quindi Grande Un po' mirata Ma scialla L'unica pecca L'unica pecca Di questa classe qua Che c'è L'avvio trasportata Come divisione Dunque non puoi Trattenere più di tanto Il respiro Dunque ragazzi Forse è un po' sconveniente Da quel punto di vista Mamma mia L'ho preso lo zainetto Ma è morto lo stesso Anche C'è una difficoltà maggiore Giocando con il cecchino Che Bella Bella No Bella C'è una maggiore difficoltà Ragazzi Giocare con il cecchino Però è veramente Troppo bello Troppo bello Troppo divertente No No L'ho colpito No Non è possibile Troppo divertente ragazzi Giocare con il cecchino Però nessuno sta Sta Mio Che boost Del kill Madonina mia Ragà Mamma mia Se riesco a farlo Era una kill Era una fottuta kill Va bene ragazzi Abbiamo perso Però vi ho fatto vedere Queste tre classi Che secondo me Sono molto valide Sono arrivato 27 kill 22 morte 3 prese 4 difese Cosa devo dire Sinceramente Potevamo far meglio Anche io Potevo prenderne di più Potevano difenderne di più Ragazzi Però ho fatto 27 kill Utilizzando tre classi Completamente diverse Con tre anni Completamente diverse Adesso ragazzi Vi voglio fare vedere Di nuovo la classe Anzi Le classi Competitive Che usano i pro gamer Di code E guardiamo bene ragazzi Come si possono anche migliorare Perché comunque anche il bar Forse con il caricatore aumentato Ragazzi Può diventare Tanta tanta roba È veramente troppo forte ragazzi Dunque guardiamo cosa Possiamo migliorare queste classi E niente ragazzi Spero che questo grande ritorno Di Call of Duty Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollicione in su Un bel commento Scrivetevi sotto nei commenti Se volete altri video Di Call of Duty Anche in varie modalità Perché ci sto pensando parecchio In questi giorni E niente ragazzi Iscrivetevi al canale Per non perdere altri video Attivate anche La campanellina di fianco Al tastino Iscriviti E niente ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Ciao